Noi dobbiamo riaprire i manicomi. Il cervello, la testa, serve non solo per dividere le orecchie, ma anche per connettere i neuroni. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Porta seccia. L'unico collasso è arrivato nel vostro cervello. C'è un buco nero fra le vostre orecchie, con una tale forza di gravità che rende impossibile l'uscita non solo della luce e delle radiazioni, ma anche del pensiero. Ci vuole veramente una fantasia accesa per definirle mascherine. Ho scoperto che hanno una grande efficacia per pulire gli occhiali. Sono veramente un prodotto eccezionale. Un gruppo pararevigioso che aveva come parola d'ordine curarsi è un peccato. E che vi possano ammazzare con curarsi è un peccato.